Quando i carabinieri le hanno bussato alla porta, addosso aveva ancora i pantaloni e le scarpe sporche di sangue, una felpa invece in lavanderia pronta per essere lavata. In giardino poi il grosso coltello da cucina che avrebbe utilizzato per colpire la vittima dell'aggressione, un ragazzo di 20 anni. È così finita in manette, accusata di tentato omicidio una quarantenne valdarnese. L'arresto a conclusione di un'operazione lampo coordinata dai militari della compagnia di San Giovanni Valdarno. Il violento episodio nella notte tra venerdì e sabato, quando il giovane si è presentato al pronto soccorso della gruccia con alcune ferite da taglio alle mani e al torace che avrebbero potuto essergli anche fatali, sarebbe stata infatti la cerniera del giubbotto che indossava ad impedire alla lama di penetrare più in profondità. È scattata immediatamente la chiamata al 112 ed il ragazzo ha raccontato ai militari della stazione di Cavriglia arrivati in ospedale l'accaduto. I due si sarebbero incontrati in strada dove si sarebbe accesa una violenta lite degenerata poi nell'aggressione. I carabinieri sono riusciti a risalire alla zona dove si è consumato il fatto e alla residenza della donna per la quale sono scattate le manette. Attualmente si trova presso il carcere di Solliciano a Firenze in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.